Aveva una sola possibilità Adam Yates per cercare di ribaltare la classifica del Giro degli Emirati Arabi, attaccare con la sua squadra fin dall'inizio della salita finale di Jabella Fett per isolare il leader, Remco e Venepul, e così è stato. Ritrovare i due uomini più attesi ben presto, da soli là davanti, è sempre garanzia di spettacolo e di emozioni. Il campione del mondo, il Maglia Rossa, poteva contare su un vantaggio enorme in classifica 1-14, sul britannico Manzi, che il limitarsi a controllare e magari gestirsi ha accettato la sfida diretta, anzi a lunghi tratti è stato proprio lui a fare il ritmo con generosità e un pizzico di spavalveria, e quando Yates ha aperto il gas ha tremato anche lui. Vittoria per il capitano della UAE Emirates, la formazione di casa che a Jabella Fett già si era imposto nel 2020, distrutto alla fine Venepul, che neppure stavolta, come a Jabella Jais, è riuscito a centrare la tappa, ma si salva in classifica generale, conquistando così la quinta edizione del Giro degli Emirati. Certo che anche in prospettiva Giro d'Italia, nell'ottica cioè di una gara sulle tre settimane, il giovane belga dovrà modificare la propria condotta tattica. Alle spalle dell'australiano Plapp, secondo, sul podio sale anche Yates, che ha pagato a caro prezzo i ventagli della prima frazione nel deserto.